Ciao a tutti! Oggi sono qua in una veste molto speciale perché vi parlerò di un manga che mi è piaciuto tantissimo e che si è concluso recentemente qua in Italia. Inoltre, sul gruppo Chibis the Weiny, avete scelto questo manga come recensione da fare sul canale, quindi è doppiamente speciale questo video. Il manga in questione è Inuboku Secret Service. Questo manga è edito qua in Italia dalla Star Comics al prezzo di 4,30€ a volume e in totale la serie conta 11 volumi. È classificato come shonen, anche se a me ricorda molto di più il genere shoujo, ma a questo ci arriveremo dopo. Questo manga parla di Rilicio, una ragazza che è per metà demone e che deriva da una famiglia molto nobile ed illustre. Siccome in famiglia viene sempre trattata in maniera diversa, ma anche dai compagni di scuola viene sempre trattata in modo speciale, decide di andare via di casa e di trasferirsi in un palazzo speciale in cui vivono altre persone come lei, quindi per metà demoni. Per poter stare però in questo palazzo, che è una sorta di condominio, deve essere assistita da un agente, diciamo, segreto del Secret Service, appunto, che è più una specie di guardia del corpo. Le viene affidato Miketsukami, che è un ragazzo molto fedele, molto ligio al suo dovere, che ha intenzione di proteggerla veramente da qualsiasi cosa. Le sta attaccato proprio come se fosse un cagnolino. E questo all'inizio darà un po' fastidio a Riricio perché non è abituata al contatto con altre persone e anche perché nasconde la sua parte sensibile e dolce attraverso un carattere molto diretto, freddo e abbastanza acido. La storia seguirà quindi le vicende di Riricio in questo nuovo luogo, le sue interazioni con gli altri membri del palazzo, non solo col suo agente del Secret Service e come affronterà il fatto che è per parte demone, quindi dovrà far fronte anche a dei problemi, diciamo, sovrannaturali. Come vi dicevo all'inizio, questo manga viene classificato come uno shonen, anche se non ne capisco bene il motivo, perché c'è una forte presenza del tema amoroso, comunque sentimentale, all'interno di questa storia, nonostante si trattino anche altri temi, però al centro delle vicende ci sono sempre Riricio e Miketsukami. In questo manga si parla molto di amore, di sentimenti verso un'altra persona, non solo in senso amoroso ma anche in senso di amicizia e in particolare seguiamo appunto lo sviluppo di Riricio, che è una ragazza molto chiusa in se stessa, che è sempre stata emarginata dagli altri perché è considerata appunto speciale o pericolosa appunto per la sua provenienza e quindi non ha mai sviluppato un vero e proprio rapporto con qualcun altro, anche in senso semplicemente di amicizia. E per lei è molto difficile rapportarsi alle altre persone. Nasconde una indole molto altruista, molto dolce e molto tenera, però agli altri appare sempre come una persona molto arrogante e acida, questo perché lei si nasconde dietro la maschera della ragazza dura, quindi non importa niente di nessuno, che si trova benissimo anche da sola quando in realtà invece ha paura e quindi nasconde questo suo carattere più, possiamo dire, più tenero, più anche fragile. dietro questa corazza della cività. E è una parte che ho trovato estremamente interessante perché comunque tutte le persone tendono a proteggere la propria natura, le proprie parti diciamo più intime, più fragili dietro a una corazza e quindi è interessante vedere come Riricio si rapporterà ad altre persone, come inizierà a fare amicizia e come scoprirà piano piano l'amore. Riricio però non è l'unico personaggio che si nasconde dietro a una corazza e che appare in un modo totalmente diverso da quello che è realmente. Questo tema della ricerca di se stessi, della propria identità, del capire chi si è e aprirsi quindi agli altri, far capire agli altri chi si è realmente viene affrontato in tantissimi altri personaggi all'interno della storia ed è una cosa che mi è piaciuto veramente tanto perché alla fine tutti noi ci dobbiamo confrontare con chi siamo e quello che arriva agli altri, come ci vedono gli altri. Un altro personaggio che a me piace molto, oltre a Riricio che è il mio personaggio preferito, è Watanuki. Anche lui è un ragazzo che è tenero, è sensibile e la sua forma diciamo demoniaca è un cane procione quindi un animale molto carino e coccoloso e lui viene sempre preso in giro per questo perché viene considerato debole quando lui non lo è in realtà e quindi cerca sempre di atteggiarsi come un teppista come un ragazzo invece forte, molto coraggioso proprio per sopperire a questa tra virgolette mancanza questo aspetto diciamo più fragile e vulnerabile. Si parla tanto anche di fedeltà, rispetto e senso del dovere verso la propria famiglia, verso la propria dinastia ed è una cosa che ho trovato molto interessante perché alcuni di questi personaggi crescono in ambienti veramente molto difficili, molto duri, proprio perché vengono considerati pericolosi o semplicemente perché vogliono essere sicuri che queste persone continuino poi la linea genealogica della famiglia quindi sono tutte persone che vengono da realtà familiari molto difficili, molto particolari, molto diverse fra di loro ed è interessante secondo me vedere come questo influisce poi sui loro caratteri, sulle persone che sono. Nel complesso questo manga mi è piaciuto veramente tanto perché affronta tante tematiche molto importanti e diverse non in maniera però pesante. Ci sono infatti molti momenti comici, divertenti che rendono la lettura molto più piacevole e leggera ma allo stesso tempo ci sono dei momenti più riflessivi e diciamo più emozionanti soprattutto verso la fine avevo veramente il cuore a mille. I personaggi mi sono piaciuti veramente tantissimo mi sono legata molto a loro li ho visti crescere, trasformarsi vedere come cambiavano, non cambiavano sono arrivata alla fine che ero veramente molto orgogliosa come se fossero state delle persone vere insomma ed è una cosa secondo me molto bella è un manga che vi straconsiglio sia che vi piacciono gli shoujo sia che vi piacciono le storie che mischiano storie diciamo di vita quotidiana al misteri e al sovrannaturale si fa riferimento in diverse occasioni alle creature diciamo mitologiche della cultura giapponese non tantissimo però sono presenti perché comunque i personaggi sono per metà demoni quindi possono trasformarsi io ad esempio sono la versione diciamo demoniaca di Riricio e quindi è interessante seguire anche questo aspetto della storia almeno a me affascina tantissimo questa parte della cultura della tradizione giapponese quindi se è un aspetto che vi piace lo ritroverete in questo manga anche se non è una parte diciamo predominante della storia ultima cosa nel volume 8 e 9 la storia diciamo principale viene interrotta per dar spazio a dei pezzi che non sono inseriti cronologicamente ma sono diciamo delle scene che non vengono inserite nella storia principale che servono per conoscere e approfondire meglio i personaggi tra virgolette secondari è una scelta che ho trovato un pochettino strana perché la storia principale arriva in un momento di alta tensione e spezzare così il ritmo non è bello e soprattutto non ti crea quella voglia di conoscere meglio gli altri personaggi non ti crea la voglia e l'interesse di leggere queste storie extra che vengono inserite totalmente a caso senza un senso o un nesso cronologico ma semplicemente per approfondire alcuni personaggi sarebbe stato bello inserirlo magari all'inizio della storia ma non così verso la fine perché i numeri sono appunto i volumi in totale sono 11 e inserire e spezzare così la storia al volume 8 e 9 non mi è piaciuto più di tanto non ho capito neanche tanto il senso a questo punto sì sono delle storie carine che aiutano appunto a conoscere meglio i personaggi però non mi sono piaciuti in quel punto inseriti a questo punto della storia da questo manga è stata tratta una serie animata che conta 12 episodi e ricopre la storia dei primi 3 volumi mi sembra quindi se siete ancora in dubbio se cominciare o meno questo manga magari guardatevi l'anime se la storia e i disegni vi incuriosiscono e vi piacciono passate poi al manga perché c'è tutta una grandissima altra storia oltre a quei primi episodi questa era quindi la mia opinione su Inuboku Secret Service di Cocoa Fujiwara non credo di aver citato l'autrice a inizio video mi dispiace comunque il fumetto è di Cocoa Fujiwara un'autrice che purtroppo è morta recentemente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo fumetto se lo avete già letto se vi incuriosisce se avete visto l'anime non lo so qualunque cosa fatemi sapere qua sotto nei commenti perché sono veramente molto curiosa di sapere anche la vostra opinione settimana prossima metterò un nuovo sondaggio sul gruppo per scegliere la prossima recensione scelta da voi quindi se vi interessa trovate il link qua sotto in descrizione spero di nuovo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao